bello a tutti ciao ragazzi e quindi oggi porto non una vabbè in due poste una dall'utente 9 The Shining tutta due racco uno e una da OnlyCurem che è l'Extrait 58 Edge iniziamo ad aprire da quest'ultimo da quest'ultima posta dunque subito le cose delle racco uno sono molto dure non ci sono eventualmente d'acqua dietro quindi posso scortare la busta perfetto mi mando un biglietto si questo mi mando un biglietto con grazie per avermi scelto spero che ci siano altri scambi tra noi solo tu potevi farmi avere il SIG Samurai XD e il SIG per sempre nei nostri cuori saluti P non dico il nome ovviamente comunque ci mando questo gran pacchettazzo con la carta da scambio ritorsione secret che non do poi ci manda extra 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 ecco le carte si suol dire di Natale come le ha chiamate lui oh mio addio sono carte fatte con sbrilucicose diciamo oh mio addio in inglese è troppo figo oh il buten bellissimo e anche la dolce il dolce grano turco ovviamente fatte tutte da lui non le do poi questa questo è tutto extra ok questo era tutto extra passiamo le carte da scambio abbiamo due magi dolce croissant un abisso corrente raro tre dive common una magi dolce tre sirenide abislinde tre sirenide abislung un poseidra tre squadre atlantiche un magi dolce gioco cavaliere due abisturge è perfetto due abispike un genaxondina e un murena della vita perfetto utente ovviamente affidabilissimo iscrivetevi al suo canale si chiama OnlyTure su youtube ok passiamo invece alla posta dove c'è le cose più succose che è la posta da Novi The Shining spedirò domani a Novi The Shining invece a OnlyTure l'ho già spedito ieri un pacchetto chiuso perfetto lo apro spero non ci sia scritto nulla due fogli imbottiti bene mi manda tre sireneide abislinde che vabbè due abisgunde poi qua c'è tutta la roba spellbook no c'è una terza e un terzo abisturge perfetto non da niente a parte tre abislinde poi mi manda la base spellbook composta da una sacerdotessa due maghetti tra temperance tra wisdom e tra secrets non do niente quindi queste no le robe abis posso dare solo tra linde no c'è queste sì queste no queste dunque non le do 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 do questi se vi servono non do non do come ho già detto potrei dare tre di queste queste non do tre linde non do uno di queste e non do due croissant e boh queste erano le risulte delle poste diciamo che per la mia versione di mermaid l'ho finita versione mouling glacia e non è che gioco mega anzi se lo troverò lo gioco uno forse l'ho preso e boh niente per questo video era tutto gli utenti sono affidabilissimi e vabbè ma si sapeva già sono due utenti garbatissimi iscrivetevi tranquilli al loro canale e niente qui da Alex è tutto la nostra sacerdotessa alta della profezia è tutto e boh niente al prossimo video ciao